Nel preludio i due temi che si incrociano sono il tema dell'amore di Aida e il tema dei sacerdoti eccetera allora in genere questo è scritto tre P tre P, tre piano perché questo tema che successivamente verrà cantato dai sacerdoti grazie agli dei sono sacerdoti sanguinari allora nel preludio questo tema viene sommessamente Verdi poteva pure fare ma lui invece fa più paura qui in genere tutto l'orchestra comincia a crescere ma Verdi continua a dire pianissimo fino all'esplosione alla fine di tutto questo e dopo riprendi il tema dell'amore è come se aprisse e fino all'apoteosi quella Quattro P è come se trovasse la pace qui e la luce cioè un capolavoro in due minuti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti